Buon ragazzo, se avete quattro santo non lo so Le scalpe, non so Eh, non c'è le scalpe? Eh, sì, dai, però si fa la pelle Ah, è insieme Eh, non so, sì Le posso pregare un paio Direzione le scalpe Qua, 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 qua Qual è la qualità delle scalpe? Si, pare, tre, due Guardiate Uno, quattro, quattro, quattro Quattro, 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 quattro Quattro, quattro, quattro Quattro, quattro Quattro Stiamo rallentando perché aumentano i piedi alle crisi Non vengono? Mi sta veramente facendo una rima Certo, no? Ho filmato, mi sto facendo Così non vi dimentico Eh? Cioè questo, questo, quello Dite chi? Prego, allora si è più bella Prego Grazie